Una lodevole iniziativa, quella promossa dallo sportello della legalità istituito presso la Camera di Commercio di Lecce, che punta a sensibilizzare l'intera cittadinanza a partire dagli studenti più giovani. Stiamo parlando di una rappresentazione teatrale tenutasi stamattina presso le officine Cantelmo di Lecce, grazie al supporto di Schenè Produzioni Teatrali, inserita nell'ambito del progetto intitolato Sportelli per la crescita economica ed imprenditoriale della Puglia attraverso la legalità, avviato nei mesi scorsi presso la propria sede con la collaborazione di Union Camere Puglia e Associazione Libera. Presente allo spettacolo anche il vice sindaco della città di Lecce, Carmen Tessitore. Il progetto è scaturito dalla constatazione che sicurezza e legalità costituiscono fattori strategici nello sviluppo economico, sociale e umano a protezione della libertà d'impresa.